Finalmente sappiamo qualcosa di più su Canon EOS R1 e su Canon EOS R5 Mark II che sono le fotocamere più potenti e prestanti mai lanciate sul mercato da casa Canon. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia. Nel corso di questo video andrò a darvi le mie impressioni su quanto è stato detto durante il lancio. Vi dico anche che alcuni tra i più fortunati hanno anche avuto modo di toccare, di mettere mano a queste fotocamere e quindi vi posso dare anche le mie impressioni sul peso per quello che può valere. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi altri capitoli dedicati a fotografia, videomaking e non solo. Benissimo, come sapete io detesto parlare di specs, quindi diciamo due cose sulle specs di queste due macchine e leviamocene dai piedi perché non voglio parlare di specs, quelle ci sono dappertutto e le avrete probabilmente già viste. Stiamo parlando di sensori stacked retroilluminati full frame R1 24,2 megapixel mentre R5 Mark II 45 megapixel. Quindi da questo punto di vista la casa non si smentisce, abbiamo due linee ben distinte. Abbiamo la linea full professional di R1 che è fantastica, 24 megapixel secondo me è veramente la perfezione e poi abbiamo R5 Mark II che ha un sensore molto denso da 45 megapixel e anche se tutti quei megapixel io personalmente non li userei quasi mai, avere una risoluzione del genere è una bella soddisfazione e ve lo dice uno che ha provato sia R5 che R5 Mark II quindi ho visto i file, so di cosa parlo, sono veramente belli. Velocità di scatto continua, abbiamo 40 fps per R1 e abbiamo 30 fps per R5 Mark II quindi comunque sono due mostri di velocità. Abbiamo il prescatto da 20 fotogrammi su R1 e da 15 fotogrammi su R5 Mark II quindi questo significa che se ci siamo persi la scena nel momento in cui cominciamo a scattare abbiamo degli scatti prima che stavano venendo memorizzati in buffer e poi cancellati però nel momento in cui premiamo possiamo recuperare anche gli scatti prima, pazzesco. Prestazioni di questo tipo sono garantite da un sistema nuovo, innovativo che prevede un nuovo doppio processore, quindi un Digic Accelerator e un Accelerated Capture da quello che ho potuto capire si tratta di due processori che lavorano in parallelo quindi con delle funzioni dedicate e quindi non vanno a sovraccaricarsi perché ognuno si prende cura di determinati aspetti lasciando altri aspetti all'altro e quindi in questo modo le macchine viaggiano come dei treni e non si fermano praticamente mai. Entrambe le macchine dispongono di Dual Pixel Intelligent AF quindi hanno la possibilità di mettere a fuoco con l'intelligenza artificiale in una maniera che non si era mai vista prima riconoscendo le scene, riconoscendo le persone memorizzando la persona da mettere a fuoco un sistema che probabilmente sarà di ausilio maggiore soprattutto a chi non è particolarmente bravo a mettere a fuoco manualmente come si faceva una volta però va anche detto che un sistema come questo in mano a un fotografo capace gli risparmia tanta fatica e gli permette di portarsi a casa più immagini facendo meno fatiche con una maggiore sicurezza di avere la scena sempre nitida. Per entrambi i corpi macchina stiamo parlando di 8,5 stop di stabilizzazione dell'immagine parlando di video abbiamo 6K fino a 60p in RAW e 4K 120p per quanto riguarda R1 mentre abbiamo 8K 60p RAW e video 4K fino a 120p per quanto riguarda EOS R5 Mark II insomma sono due macchine con cui possiamo tranquillamente fare cinema ovviamente hanno tutte le caratteristiche professionali di macchine che conosciamo già cose che ho trovato molto interessanti adesso adesso veniamo alle cose belle perché una volta lasciamo perdere le specs adesso veniamo alle cose belle dove vi posso dire che ho visto effettivamente delle cose che mi sono piaciute prima cosa che mi viene in mente cominciamo da una cosa che vi posso dire ho potuto provare con questi occhi e con queste mani e mi è piaciuta veramente tanto ed è il nuovo oculare perché? perché il nuovo oculare che è ovviamente elettronico non è il solito oculare elettronico che abbiamo già visto su tante macchine e che a qualcuno ha fatto storcere il naso ora, ben inteso, mantiene le caratteristiche di un oculare digitale quindi non è vetro, non è quella roba lì, non è quello di prima però quello che hanno fatto, che è una cosa secondo me geniale è che l'hanno fatto più grosso nel momento in cui io vado ad appoggiare il mio occhietto sull'oculare non sto più guardando in un oculare piccolo dove ho la percezione di tantissimo nero con un'immaginetta piccola nel mezzo no, sembra di stare al cinema ragazzi io guardo dentro e vedo questa immagine enorme con poco nero ai bordi perché l'hanno calcolato apposta per riempirmi tutto il campo visivo porca miseria, bello, scattare così deve essere veramente una favola io spero di vedere questo oculare poi riportato a cascata anche su modelli meno professionali che usciranno in seguito spero veramente di vederlo anche su macchine un po' più abbordabili perché il difetto di queste macchine è che escono con un prezzo che è un po' proibitivo per la maggior parte delle tasche quindi spero feature come questa di vederla poi a cascata uscire anche sui modelli successivi su una eventuale R6 Mark III io spero di ritrovarlo questo oculare perché è veramente bellissimo altre cose di cui dobbiamo parlare che secondo me sono assolutamente essenziali sono i sistemi di dissipazione del calore sappiamo benissimo che quando, non tanto quando facciamo foto ma quando facciamo video soprattutto con delle prestazioni come queste la macchina si scalda, si scalda tutto perché ve lo posso dire anch'io io sto registrando con una R7 e con una R6 si scaldano anche quelle in questo caso abbiamo visto che hanno lavorato su dei sistemi di dissipazione del calore che non dico che ci permettano di registrare in 8K RAW all'infinito ma sicuramente ci garantiscono un tempo di registrazione più che adatto a produzioni per cui è necessaria una macchina come questa ovviamente ragazzi non dobbiamo pensare di metterci a riprendere una conferenza che dura 4 ore in 8K RAW con una macchina come questa abbiamo sbagliato tutto se facciamo una cosa del genere macchine come questa secondo me sono fatte per registrare delle brevi clip si fa una take e poi si interrompe e si dà modo alla macchina di riprendersi produzioni di questo tipo dove ci sono dei chuck dove c'è una scena che viene gestita possono essere registrate con macchine di questo tipo è inutile registrare tutta la recita del nostro bambino o della nostra bambina con una macchina come questa poi dopo un'ora che stiamo riprendendo lo schiaccianoci con i nostri bambini sul palco dopo un'ora si surriscalda e diciamo ecco Canon non funziona e no non è quello l'utilizzo che dobbiamo farne altra cosa secondo me molto importante di cui vi voglio parlare sono le modalità di trasferimento per quanto riguarda Canon EOS R1 abbiamo delle modalità di trasferimento immagini che sono pensate per un utilizzo professionale quindi una banda molto ampia che ci permette un flusso di immagini pesanti perché queste immagini sono pesanti in maniera tale che ok dobbiamo scattare con la macchina fotografica perché siamo professionisti però ci hanno chiesto le foto per Instagram subito benissimo scattiamo come vogliamo noi scattiamo con la macchina migliore che possiamo avere in questo momento e poi però passiamo le immagini direttamente su smartphone o direttamente su computer per la condivisione veloce un'altra cosa da dire e questa di nuovo è un'altra cosa che mi ha sorpreso è vero che su queste macchine abbiamo questi sensori che ci danno rispettivamente 24 e 45 megapixel però è vero anche che noi abbiamo la possibilità di fare una cosa molto molto bella ovvero noi abbiamo la possibilità di ingrandire le immagini in macchina e questo è bellissimo ragazzi perché significa che nel momento in cui io scatto una fotografia facciamo finta facciamo finta che io l'abbia anche sbagliata oppure che sto facendo sport e sono molto lontano ho fatto la fotografia di un giocatore nel momento decisivo ma ero lontano e quindi il giocatore è piccolo nel centro io posso ingrandire in macchina quella foto fino a se ricordo correttamente fino a 90-80 megapixel con un risultato io l'ho visto abbiamo provato a farlo in macchina con un risultato che mi ha fatto cascare la mandibola perché stiamo partendo da un'immagine da 24 o 45 megapixel la stiamo espandendo fino a quasi 100 mi pare fossero 80 e 90 rispettivamente e la ingigantiamo in macchina ci mette qualche secondo e ci restituisce un'immagine che noi possiamo croppare perché a questo punto è immensa e quindi recuperiamo il dettaglio anche di quel qualcosa che magari è venuto un po' piccolo all'interno della nostra composizione questo è veramente fantastico perché significa che noi possiamo scattare con la risoluzione nativa del sensore ma se siamo in difficoltà possiamo fare un upscaling e ingigantire il nostro dettaglio e questo dettaglio poi lo possiamo mandare in JPEG direttamente per essere condiviso dove deve essere condiviso questa cosa è veramente bella una cosa che a me non servirà probabilmente mai nella vita però sapere di avercela deve essere veramente bello altra cosa che mi è piaciuta parecchio e che ho finalmente avuto modo di provare perché è una cosa che esiste già la messa a fuoco con l'occhio la messa a fuoco con la pupilla ovvero nel momento in cui io guardo dentro nell'oculare c'è la possibilità di registrare il mio occhio quindi si fanno una serie di test e mi hanno detto che ripetendo i test la macchina diventa anche più reattiva quindi si abitua al nostro occhio e noi nel momento in cui guardiamo dentro nell'oculare abbiamo la nostra scena con i punti di messa a fuoco ma abbiamo anche un tondino e questo tondino segue il movimento della nostra pupilla quindi se guardiamo fate finta che il fotogramma sia questo se state guardando me la macchina capisce si aggancia su di me se vi spostate qui non c'è bisogno che andiate esattamente sul microfono se vi spostate in quest'area la macchina rileva che c'è qualcosa e aggancia il microfono se vi spostate in quest'area con la pupilla la macchina capisce e aggancia la lucina cioè se vi spostate più o meno con la pupilla in una porzione del fotogramma dove c'è dell'azione, dove c'è dell'interesse la macchina capisce e va a mettere a fuoco lì automaticamente pensate che addirittura la macchina è in grado di capire osservando una scena per esempio una competizione sportiva la macchina da sola con l'intelligenza artificiale è in grado di capire qual è il giocatore che sta portando palla qual è il giocatore più importante durante quell'azione e mette a fuoco automaticamente nel punto migliore bellissimo, bellissimo perché questo significa che a questo punto io veramente posso occuparmi solo di comporre la scena e di scattare dopodiché con l'occhio comando dove la macchina deve andare a mettere a fuoco e lo fa bene ragazzi lo fa maledettamente bene quindi queste sono le cose che personalmente mi hanno sorpreso tenendo la macchina in mano oltretutto vi devo anche dire una cosa io ho provato a tenere in mano la EOS R1 con il 24-105 f2.8 quindi un'ottica di cui sapete che vi ho anche mezzo parlato male perché ho detto un'ottica ingombrante molto costosa non so bene a che target sia rivolta vi posso dire avendola tenuta in mano primo che è bellissima quindi io non la compro una cosa del genere perché non mi risolve la situazione lavorativa non mi fa acquisire quasi nessun vantaggio al di là del fatto che ho un'ottica bellissima però non ne ho un vantaggio tale da dire devo assolutamente comprarla quindi non è un'ottica che io vado a comprare però vi devo dire R1 con quell'ottica lì l'ho presa in mano lo so pesate la prima cosa che mi è venuta da dire è ma non è pesante è leggera cioè non è così pesante come sembrerebbe dalle dimensioni perché è voluminosa è molto grossa il tutto è veramente molto grosso però non pesa così tanto come ci si aspetterebbe vi posso dire che secondo me pesa di meno a me è capitato di usare R6 con il 100-500 mm secondo me quella configurazione pesava di più io ho tenuto in mano questa R1 e secondo me pesava di meno era molto comoda era maledettamente comoda da tenere in mano ora facciamo due considerazioni assolutamente personali su queste due macchine secondo me stiamo parlando di due corpi veramente eccezionali con delle prestazioni che sono di un livello tale ovviamente tra prestazioni e prezzo secondo me per la maggior parte degli amatori sono un po' fuori mercato perché è difficile potersi permettere una macchina come questa è difficile averne bisogno nel senso che macchine come queste io le vedrei bene facciamo un parallelo la Canon EOS R5 Mark II io la vedrei bene per il fotografo professionista e per il content creator di altissimo livello vedrei bene un Peter McKinnon con in mano una R5 Mark II contenuti social ma di altissimo livello di altissima qualità lo vedrei bene con una macchina del genere mentre per quanto riguarda EOS R1 questa è una macchina che secondo me è pensata per i contesti più estremi in cui ci possiamo trovare quindi sport di alto livello avifauna di alto livello wildlife di alto livello in generale se volete andare nella giungla e fotografare un colibri a mano libera sicuramente se vi portate dietro un EOS R1 non avete fatto una cattiva scelta vedremo presto queste fotocamere sugli scaffali vi dico francamente che spero proprio di sì avremo una recensione approfondita su questo canale anche qua io vi dico che spero proprio di sì però qui non dipende tanto da me perché come detto non sono macchine che credo che acquisterò o quantomeno non nell'immediato futuro quindi io vi consiglio comunque di iscrivervi al canale di rimanere sintonizzati perché se avrò la possibilità di portarvi recensioni di questi prodotti lo farò veramente molto volentieri però dipenderà molto da se riuscirò a mettere le mani su una di queste macchine senza acquistarle quindi rimanete sintonizzati perché ne riparleremo presto a questo punto però vi chiedo come sempre fatemi sapere nei commenti qual è la vostra opinione che cosa ne pensate avete seguito il lancio avete visto le caratteristiche delle macchine c'è qualcosa in più che non ho detto su cui siete curiosi fatemi pure delle domande qui sotto se conosco le risposte vi risponderò se non conosco le risposte andrò a guardarmi le specs e vi risponderò lo stesso quindi apprezzatelo lo faccio per voi signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e ci vediamo io spero molto presto nel prossimo video un po' del mio tempo